Complimenti per il coraggio che dimostrate ad aver affrontato il caldo per venire a questa bella iniziativa. Devo dire, non voglio per questo prendermene merito perché è bella in sé. Io sono semplicemente saltata su un carro vincente, ringrazio molto l'Archiginnasio come sempre di darci la propria disponibilità e veramente questo straordinario lavoro che come la luna esercita la sua influenza in un modo quasi impercettibile ma molto molto concreto. E così il paragone con la struttura dell'Archiginnasio ci sta perché appunto il personale dell'Archiginnasio poco si vede però l'efficienza è sempre molto molto luminosa e percepibile. Questa sera parliamo di luna. La luna è la regina della notte, uno dei due luminari che certo non pretende di competere con il sole e la sua potenza, però il sole è anche violento, brucia, mentre la luna più quieta esercita la sua influenza in modo quasi sotterraneo, impercettibile. Da sempre per gli umani è la regina della notte e in tutti i miti, in tutte le religioni si accompagna a questa visione di madre benefattrice, di presenza benefica che regola il momento della semina, che regola la nascita delle greggi, che solleva i mari ed è quieta, però sempre in qualche modo presente ed è viva nell'immaginazione dei poeti, fa compagnia agli amanti. Insomma, la luna è la regina della notte, il giorno scompare, però per una volta, 50 anni fa, c'è stato un giorno che è stato per tutte le 24 ore sull'orbe terraqueo, è stato il giorno della luna, in cui la luna ha dominato tutte le ore del giorno, tutte le 24 ore, perché tutto il mondo in contemporanea è stato lì a contemplare questa impresa, questa impresa, una grande conquista e a questo punto mi viene da chiedere alla nostra autrice chi è che ha conquistato chi? Un applauso a Luisa, perché Luisa è l'anima di questa iniziativa in tutti i sensi, perché lei con la società di lettura fa un sacco di incontri, riunioni tutti belli, di solito la facciamo con più gente, ma perché la stagione non è quella giusta, come sappiamo, però se la luna ci sono andate il 20 di luglio non ci posso fare niente, non potevamo spostarla in gennaio, quindi la facciamo adesso in questa ricorrenza. E come vedrete sarà molto interessante quello che scopterete, perché credo di aver fatto una cosa giusta, che è in questo senso, Patrizia Caraveo ci racconterà, inizierà parlando di come è stata l'impresa in maniera sintetica e voi sapete che è stata un'impresa veramente eccezionale. Poi già che ci siamo vogliamo inserirle in un contesto, in quale contesto? Molto rapidamente. Ci sarà un contesto, quello della grande gara, perché è inutile discorre, dallo sputnik in avanti c'è stata una grande gara. La Russia e l'America hanno detto chi arriva prima è bravo a vincere la medaglietta, ha detto in maniera un po' stupidina. E quindi Filippo Andreatta, che è un professore ordinario, ma al di là dei titoli ci capisce di politica internazionale, ci dirà come questa gara è stata importante, come si è svolta e secondo me, io per provocarlo ho detto, secondo me sta per riprendere un'altra gara fra gli Stati Uniti e la Cina, perché la Cina ultimamente si è fatta birichina e vuole andare, c'è già andato sulla luna, la faccia dietro, eccetera, eccetera. Dopodiché c'è l'altro aspetto importante, che è quello che Luisa ha già citato chiaramente, sta benedetta luna, non è una luna da ridere, è una luna che è interdisciplinare in tutti i sensi e quindi c'è l'aspetto letterario, culturale, dei sogni, le morose, tutto quello che si vuole. E tutto questo rientra in una parte che è di competenza del professor Andrea Battistini, che essendo professore di letteratura ci dirà quest'altro aspetto. Detto questo, se avrete voglia e tempo, ma penso di sì, possiamo fare delle chiacchiere, delle domande, non c'è problema, possiamo anche discutere di una domanda che tutti mi fanno, siamo andati sulla luna, che cavolo ci siamo andati a fare, ci torneremo, perché non andiamo su Marte qui? Patrizia è fondamentalmente forte su questo argomento, come voi potete vedere, avrete letto forse anche nel libro, e ci dirà se vale la pena andare su Marte, eccetera, eccetera. Ultima cosa, e poi ho finito la mia introduzione, Patrizia Graveo è una persona, oltre ad essere amica, di grandissima cultura, non solo scientifica, ma io dico che è anche un giornalista scientifico, nel senso che oltre a saperlo la sa anche raccontare, ci sono quelli che sono gran bravi nel loro ufficio, poi quando uno li porta fuori non si sa cosa cavolo scrivono, con chi parlano, parlano con se stessi e col Padre Eterno, invece lei è brava anche in questo e sa scrivere, e la cito per un argomento, perché è famosa nel mondo per questo, mi tocca dirlo, anche se tu non lo vuoi dire, la sua carriera scientifica è legata a un'osservazione molto particolare di un oggetto che è stato chiamato Gheminga, adesso lei vi dirà, è un nome, attenti, è complesso, ma poi vi dirà perché, tanto per dire due parole iniziali, quindi io cedo la parola immediatamente a Patrizia e sono convinto che vi convincerà, come vi ha convinto il suo libro. Ah, dico un'altra cosa, per inciso è anche commendatore della Repubblica, questo non serve, però serve, insomma, per dire, insomma. Bene, grazie. Ci siamo? Ok. Se volete proprio sapere la storia di Gheminga, non ha niente a che fare con la Luna, Gheminga è una sorgente di radiazione gamma. I raggi gamma sono un tipo di luce che trasporta molta molta energia. I nostri occhi non sono sensibili ai raggi gamma, così come non sono sensibili ai raggi X e per studiare i raggi gamma bisogna avere degli strumenti in orbita intorno alla Terra, perché l'atmosfera è molto gentile nei nostri confronti e assorbe la radiazione gamma, cosa che è molto positiva perché i raggi gamma sono molto nemici delle cellule. Non per niente vengono utilizzati per sterilizzare gli attrezzi chirurgici. All'inizio degli anni 70 è stata vista, è stata fatta per la prima volta la carta celeste in raggi gamma e si è scoperto una sorgente, cioè una concentrazione di raggi gamma in un punto del cielo dove non si conosceva niente di particolarmente interessante. Non c'era un oggetto celeste già noto per avere delle caratteristiche peculiari e quindi l'inventore del nome è mio marito Giovanni Bignami che aveva convinto i radiastronomi olandesi a puntare il radiotelescopio in quella direzione e quelli gli hanno detto noi diamo un nome a tutte le osservazioni, per favore dici che nome dobbiamo mettere. Allora lui ci ha pensato un po', in generale quando uno non sa come si chiama una sorgente tende a dare le coordinate celesti o galattiche, però insomma le sorgenti a quel punto diventano dei numeri di telefono. A lui non piaceva e ha coniato, lui era molto bravo a fare i giochi di parole, questo gioco ha messo insieme, la sorgente era nella costellazione dei gemelli, quindi gemini in latino, era una sorgente gamma, quindi ha messo insieme geminga, ha scritto geminga, l'olandese l'ha presa in mano e ha letto geminga, perché in Olanda la G è solo dura e a questo punto è venuta fuori il gioco di parole, perché geminga in milanese vuol dire non c'è e effettivamente la sorgente ha evitato di farsi vedere per almeno ancora una decina d'anni, ci sono voluti sforzi notevolissimi in tutte le possibili lunghezze d'onda prima di riuscire a vederla, prima l'abbiamo vista in raggi X, poi l'abbiamo vista in ottico e poi abbiamo capito tutto ed è la ragione per la quale io ho preso premi, sono un commendatore eccetera. Ma l'artefice di questa cosa non sono io, ma è mio marito che purtroppo non c'è più. Avendovi spiegato qual è la ragione della mia fama astronomica, veniamo alla Luna. Questo libro è nato da un incontro che ho avuto con una gentile signora che mi ha chiesto un appuntamento e mi ha detto vorrei farle una proposta. Va bene, è venuta nel mio ufficio e mi ha detto che lei faceva un po' di ricerca per racconto di case editrici e mi voleva chiedere se avevo voglia di scrivere un libro sulla Luna. E io l'ho guardata e gli ho detto perché? Perché lo viene a chiedere a me? Io posso scrivere un libro di astrofisica ma non ho mai fatto niente sulla Luna e lei mi ha detto perché me l'ha consigliato la mia mamma. Questa era una cosa abbastanza curiosa perché la mamma di questa giovane signora mi aveva sentito a una conferenza dove non parlavo di Luna evidentemente e quando probabilmente facendo colazione, non lo so, la figlia le aveva detto ma devo cercare qualcuno per scrivere un libro sulla Luna, questa signora ha detto contatta la dottoressa Caraveo che secondo me è in grado di scrivere un libro sulla Luna. Questa cosa qui mi ha da un lato divertito dal lato mi ha solleticato ovviamente a tutti piace ricevere dei complimenti e allora gli ho detto vabbè ci penso però se scrivo un libro sulla Luna sicuramente non lo scrivo sulle missioni Apollo cioè le missioni Apollo fanno parte della storia del nostro rapporto con la Luna ma sono un capitolo di questo rapporto non è tutto il rapporto nel senso che come diceva la Presidente prima che ci ha introdotto il rapporto con la Luna è prima di tutto un rapporto emozionale che ha a che fare con l'arte, la poesia, la letteratura e ovviamente mettendo insieme la letteratura e la fantasia la Luna ci ha regalato dei grandissimi romanzi di fantascienza pensiamo Dalla Terra alla Luna di Verne che è uno dei romanzi più famosi al mondo che sono andata a vedere l'edizione italiana ha avuto 23 ristampe quindi voglio dire non un libro di successo ma della parte artistica parlerà il professore quindi non mi addentro mi addentro un attimo di più nella parte razionale capire come si comporta la Luna, perché si comporta così qual è l'origine della Luna ma anche ovviamente la voglia di esplorare la Luna la Luna è il corpo celeste più vicino a noi la Luna e la Terra formano un sistema binario la Luna orbita intorno alla Terra nello stesso periodo che impiega a girare intorno al proprio asse quindi fa subito un'orbita quella che si chiama sincronizzata e quindi noi vediamo solo una faccia della Luna l'altra è nascosta non è oscura perché c'è la famosa canzone The Dark Side of the Moon è una sciocchezza la faccia che noi non vediamo della Luna riceve esattamente la stessa insolazione della faccia che noi vediamo ogni punto della Luna è illuminato per due settimane ed è buio per due settimane quindi non c'è una parte oscura piuttosto che più illuminata la voglia di esplorazione ha fatto partire uno sviluppo tecnologico assolutamente impressionante che ha fatto sviluppare l'arte dell'astronautica allora la voglia di esplorazione della Luna è partita subito dopo il lancio dello Sputnik sia americani sia sovietici hanno iniziato a lanciare delle missioni verso la Luna e le missioni sono quasi tutte fallite perché andare alla Luna non è una cosa banale bisogna imparare a fare tutta una serie di manovre bisogna mettere la sonda in orbita terrestre al momento giusto bisogna dare l'accelerazione giusta che la metta nell'orbita giusta per andare verso la Luna quando arriva alla Luna bisogna decelerare per farsi catturare dalla gravità della Luna se si vuole fare un allunaggio bisogna fare tutta una serie di altre decelerazioni e manovre quindi andare sulla Luna non è una passeggiata neanche dal punto di vista teorico ma appunto negli anni 58, 59 e 60 c'erano stati molti tentativi americani e sovietici dell'ordine di una decina ciascuno quindi tanti tentativi tutti quegli americani sono falliti quelli sovietici sono falliti tutti tranne due che sono stati due grandi successi la prima è Luna 2 che colpisce la Luna quindi per la prima volta si riesce a centrare la Luna il secondo è Luna 3 che riesce a fare l'orbita intorno alla Luna e ci regala la prima immagine del lato nascosto della Luna quindi due grandi successi sovietici ma i successi sovietici continuano perché noi sappiamo che nell'aprile del 1961 viene messo in orbita il primo uomo e il primo uomo è un sovietico è Yuri Gagarin che parte sottotenente e torna a casa maggiore nel corso dell'orbita terrestre è stato promosso il fatto che i sovietici abbiano lanciato il primo satellite artificiale il primo uomo in orbita intorno alla Terra non può fare particolarmente piacere agli americani e il 25 maggio 1961 il presidente Kennedy parlando alle camere fa il suo famoso discorso che potete trovare su YouTube dove dice dobbiamo impegnarci in un programma spaziale che sia veramente grandioso e quindi dobbiamo andare sulla Luna dobbiamo portare sulla Luna degli astronauti e riportarli a casa sani e salvi prima che la decade sia finita quindi è un impegno ben preciso una sfida che deve essere condotta all'interno di un tempo ben definito questo è il discorso che fa alla Camera questa è un'altra immagine molto bella l'anno dopo settembre 1962 è alla Rice University in Texas perché è andato a visitare il centro di controllo del volo umano che è in corso lo stanno costruendo a Houston il famoso Houston abbiamo un problema perché il centro di controllo delle missioni umane è a Houston va a questa in questa università dove tiene un discorso davanti a una folla ahimè più grande di quella che ho io guardate 40.000 persone sono riunite a sentire il presidente Kennedy che dice perché dobbiamo andare sulla Luna anche questo è un discorso bellissimo visionario che riporto nel libro in parte dove dice noi vogliamo andare sulla Luna non perché è facile ma perché è difficile perché per fare cose difficili dobbiamo imparare a tirare fuori il meglio della nostra nazione questa è una sfida che noi abbiamo accettato che non vogliamo posporre e che vogliamo vincere quindi è proprio tutta la visione dello spazio visto come diciamo terreno per dimostrare quanto vale una nazione il ovviamente per andare sulla Luna ci vogliono molte capacità per esempio bisogna avere un razzo molto potente e Kennedy sa di potersi diciamo appoggiare su un personaggio straordinario pieno di contraddizioni ma anche di una bravura e di una capacità fuori dal comune che è Werner von Braun nazista si è consegnato all'esercito degli Stati Uniti è stato diciamo così graziato non gli è neanche stato fatto il processo come criminale di guerra come avrebbero potuto fare ma è stato poi impiegato perché era un genio della missilistica e quindi gli americani avevano bisogno di fare i missili balistici intercontinentali per portare in giro per il mondo le loro bombe atomiche e questo ha fatto sì che lui salisse di grado fino a poi diventare il capo del Marshall Space Flight Center in Alabama dove ha progettato e costruito i Saturno 5 questo sono i cinque motori del primo stadio del Saturno 5 che è una bestiazza terrificante alta 110 metri il razzo più potente che abbiamo mai costruito ma non ci sono solo pezzi di ferraglia variamente complicati per andare sulla Luna ci vuole anche un sacco di organizzazione e l'organizzazione è rappresentata secondo me dalla stanza di controllo quella dove siede il direttore di volo che ha sotto di sé tutti i responsabili dei sottosistemi delle di tutte le parti che costituiscono la missione e quindi questa stanza di controllo è stata inventata per i voli umani non era mai stata fatta prima chiaramente e diciamo quello che l'ha inventata ha avuto questa idea geniale di mettere diverse file di postazioni con computer tavoli così tutti che guardano uno schermo dove viene proiettato delle informazioni che sono di interesse generali mentre sui loro schermi vedono solo le informazioni relative al loro sottosistema quindi da questa stanza di controllo sono state gestite tutte le missioni Apollo e questa è la foto una delle foto più iconiche del progetto Apollo si chiama Terra che sorge ed è stata fatta il 24 dicembre 1968 dagli astronauti di Apollo 8 che è stata la prima missione a orbitare intorno alla Luna stavano orbitando dalla parte nascosta della Luna sono usciti dalla e quindi hanno visto la Terra e hanno fatto questa splendida immagine un'immagine che gli storici ci dicono che ha fatto iniziare la coscienza ecologista perché dalla Luna per la prima volta gli esseri umani hanno visto tutta la Terra e si sono resi conto di quanto sia bella e di quanto sia fragile il nostro pianeta guardate anche in questa foto è molto bello il contrasto di colori tra il grigio profondo della Luna e l'azzurro bianco della Terra sono veramente sembrano veramente due oggetti celesti fondamentalmente diversi e invece no sono praticamente lo stesso oggetto celeste perché la Luna è un pezzo di Terra e questo l'abbiamo scoperto perché gli astronauti queste sono le parole dette da Armstrong quando il primo passo dell'uomo sulla Luna e appena dopo questo è invece una foto dello stivale di Basoldrin ma appena hanno diciamo calcato la Luna la prima cosa che hanno fatto è stato subito raccogliere dei campioni di suolo lunare alla fine poi ne hanno portati a casa una ventina di chili ma avevano come compito Armstrong prima di tutto una volta sceso dalla scaletta doveva raccogliere subito qualcosa perché metti caso ci fosse un'emergenza e lui dovesse ritornare rapidissimamente dentro il modulo lunare dovevano avere dei campioni lunari perché gli scienziati volevano analizzarli perché quando uno analizza il campione di un oggetto celeste può fare la carta di identità di questo oggetto celeste e con sorpresa la carta di identità della luna è risultata quasi identica a quella della terra e quindi questo ha fatto nascere la teoria che la luna si è formata all'inizio del sistema solare a seguito di un grande impatto che la terra ha ricevuto da un altro corpo celeste ma andare sulla luna ci ha fatto fare un balzo tecnologico enorme non solo perché abbiamo portato degli strumenti sulla luna qua in primo piano vedete un sismografo perché ancora una volta si voleva riuscire a capire se la luna aveva dei movimenti sismici se è un corpo vivo oppure se il suo nucleo è freddo e non ha più nessun tipo di movimento quello in secondo piano è più rilevante dal punto di vista fisico perché è uno specchio che è stato usato e continua a essere usato per riflettere un raggio laser che viene spedito tutte le notti da diversi osservatori terrestri questo permette di calcolare la distanza tra la terra e la luna con grandissima precisione e permette di fare degli esperimenti di fisica di mettere alla prova la relatività generale in modo veramente sempre più accurato quindi sicuramente la l'avventura lunare non è stata decisa sulla base della scienza perché è stata una decisione di tipo politico ma i risultati scientifici ci sono stati e sono stati importanti ma ancora più importanti sono stati i risultati tecnologici lo sviluppo tecnologico che andare sulla luna ha comportato ha dato alla nasa 160.000 brevetti che vuol dire innovazione appadilate letteralmente noi stiamo ancora vivendo su questo tipo di innovazione vabbè ci ha fatto anche capire che le pari opportunità possono solo migliorare nello spazio questa è una foto di famiglia di tutti gli astronauti del progetto Apollo tutti quelli bianchi hanno volato hanno fatto la loro missione quelli in giacca e cravatta sono quelli di Apollo 13 che hanno volato e diciamo hanno avuto un grossissimo problema e sono riusciti a tornare a casa sani e salvi quelli con la tuta azzurra purtroppo sono i tre astronauti che sono morti a terra mentre stavano facendo un'esercitazione ma comunque vedete che sono tutti maschietti bianchi quindi la parità di genere zero sensibilità alle diverse diciamo razze etnie eccetera zero tutto tutto questo può solo migliorare allora sulla luna ci siamo andati dodici astronauti americani hanno calcato il suolo della luna un'avventura strepitosa grandissimo successo poi nel dicembre del 72 il presidente Nixon ha chiuso il rubinetto ha detto dovevamo fare dimostrare di essere più bravi l'abbiamo dimostrato adesso abbiamo altre cose da fare quindi l'interesse della NASA per la luna è passato da essere spasmodico a essere nullo i sovietici hanno continuato fino al 1976 hanno portato dei rover sulla luna hanno fatto delle missioni per riportare a casa in modo automatico campioni lunari quindi hanno avuto dei grossissimi successi tecnologici ma davanti alle prodezze degli astronauti che andavano in giro con i rover lunari così chiaramente gli eroismi degli ingegneri sovietici non hanno avuto tutto questa nomea rinomanza mondiale allora dopo la conquista l'abbandono e che cosa ci può dare fare l'idea di un programma abbandonato se non una sala di controllo vuota perché in effetti questa qui è la sala di controllo originale delle missioni Apollo che non era più utilizzata dal 1992 e diciamo si era un po' ammuffita aveva perso un po' del suo splendore che in occasione del cinquantenario dell'Apollo 11 è stata restaurata e è stata restaurata con tutto materiale d'epoca andando a cercare nei centri della NASA tutti i pezzi storici che potevano venire buoni quindi se andate a Houston oltre a vedere il Saturno 5 che è steso per terra potete visitare la stanza di controllo delle missioni Apollo ma l'avventura non è finita perché adesso sulla Luna ci vogliamo tornare e ci vogliamo tornare non facendo delle missioni mordi e fuggi ma facendo costruendo un villaggio lunare costruendo qualche cosa di stabile sulla Luna ora la Luna non è il posto più amicchievole dove andare non è che se uno ha qualche giorno di vacanza dice vado a passare qualche giorno sulla Luna prima di tutto perché ci vogliono tre giorni per andarci ma indipendentemente da questo sulla Luna non c'è campo magnetico quindi tutte le particelle cosmiche che arrivano gli astronauti se le beccano non c'è atmosfera quindi niente niente da respirare ma ne ha anche nessuna protezione contro le micrometeoriti perché le varie stelle cadenti che a noi piacciono tanto d'estate sono tutte micrometeoriti che se bruciano nell'atmosfera non succede niente ma se vi cascano addosso con in numero considerevole magari vi possono anche bucare la tuta e non è particolarmente carino quando siete in un posto senza atmosfera e dovete avere una tuta che vi protegge comunque le difficoltà però non non spaventano né gli ingegneri né gli astronauti che sono abituati sia ad accettare le difficoltà sia ad accettare i rischi perché ricordatevi che gli astronauti dell'Apollo 11 sapevano di avere una probabilità del 50% di tornare a casa quindi sapevano di correre dei rischi molto grandi tanto è vero che il presidente Nixon aveva pronto il discorso funebre perché non si sa mai se quelli lì si spetasciavano sulla luna bisognava dirlo alla nazione con parole auliche e non farsi cogliere impreparati ma appunto vedete che ehm i progetti di ehm di un villaggio lunare ci sono già architetti di grande fama che hanno proposto degli schemi di questi speci di glu ehm che devono proteggere degli astronauti che devono fornire un ambiente pressurizzato dove gli astronauti possano vivere mangiare riposarsi eh eccetera eh l'unico eh vero problema è che il budget della NASA non è più quello di una volta perché eh non è carino parlare di soldi ma eh vedete che quando presidente Kennedy nel millenovecentosessantuno quindi eh qui alla all'inizio di questo grafico lanciò la sua sfida eh però ehm prese anche la decisione d'accordo con il congresso ovviamente di quadruplicare il budget della NASA perché aveva chiesto di fare delle cose difficili mai fatte prima chiaramente bisognava avere i fondi per sviluppare decine di missioni automatiche per fare tutta una serie di ehm operazioni per andare a mh saggiare il territorio della Luna non si sapeva se la gli astronauti avrebbero potuto camminare avevano paura che sprofondassero tipo sabbie mobili quindi hanno dovuto mandare dei rover prima delle dei lander che si sono appoggiati hanno visto che riuscivano a stare appoggiati per esempio ma questa è una delle decine di missioni che sono state fatte quindi grande ehm grande richiesta di fondi che eh vedete mh sono stati accordati quando poi il programma Apollo è stato chiuso i fondi della NASA sono scesi e non sono più risaliti in modo significativo vedete che c'è una gobba nel 1990 che sono le guerre stellari di Reagan più o meno ma eh poi il budget è abbastanza piatto ehm è ancora più interessante guardare la riga marrone che è il rapporto tra il budget della NASA e il PIL federale degli Stati Uniti eh durante il picco del programma Apollo la NASA aveva il 4,5% del PIL che è una enormità in questo momento hanno meno dello 0,5 eh vi ricordo che in Italia tutti gli enti di ricerca tutte le università tutti i tipi di ricerca che vengono fatti in Italia fanno fatica ad arrivare all'1% del PIL qui stiamo parlando di una sola agenzia che prendeva il 4,5% quindi vuol dire che veramente c'era una decisione politica granitica che bisognava arrivare a tenere fede alla promessa del presidente Kennedy allora se eh se la NASA di soldi non ne ha come si fa a tornare sulla Luna beh a questo punto ci sono i privati per esempio Jeff Bezos all'inizio di maggio ha presentato al mondo il suo ultimo giocattolo si chiama Blue Moon ed è il modulo di allunaggio che è stato progettato e è in corso di realizzazione da parte della sua ditta Blue Origin Jeff Bezos che ovviamente sapete è l'uomo più ricco del mondo investe un miliardo all'anno dei suoi soldi in questa ditta Blue Origin perché lui pensa che lo spazio sia il futuro dell'umanità a questo punto voi vi potete chiedere perché per esempio Jeff Bezos investe così tanti soldi per tornare sulla Luna io ho la mia risposta perché è conquistato dalla Luna grazie perfetto benissimo molto bene direi che siamo partiti benissimo una spiegazione completa tante belle cose poi possiamo riparlarne con delle domande io adesso passerei a Filippo Andreatta che ci dice qualcosa di diciamo importante da un punto di vista storico che è legata alla famosa gara che ha diciamo una base solida ormai consolidata nel senso che è ovvia a tutti è conosciuta via dicendo e che ti dico già la domanda secondo te si ripropone nel settore specifico noi siamo molto almeno io sono rimasto abbastanza colpito dalle imprese che stanno ritornando fuori legata anche alla Luna stessa quindi i cinesi gli indiani i giapponesi gli israeliani quindi c'è di nuovo una gara è così dove si metteranno i contendenti la Russia con chi starà non ho delle risposte diciamo rispetto al futuro quello che posso dire è che come è stato molto ben detto nel libro e anche nella presentazione dell'autrice c'è un'ambiguità in questa impresa come in tante altre imprese del passato legata un po' all'ambiguità della natura umana e dei rapporti tra scienza e competizione tra scienza e guerra perché la natura umana che siamo portati a identificare come positiva è anche capace come sappiamo di fare di usare molta violenza e le stesse motivazioni che possono portarci a fare dei gesti altruistici per esempio i grandi sacrifici che vengono richiesti dal patriottismo possono invece essere strumentalizzati per cui il patriottismo può essere una forma di egoismo e di sopraffazione delle altre nazioni e quindi in qualche modo gli esseri umani sono unici rispetto agli altri animali perché sono in grado di sacrificarsi anche per persone che non sono consanguine con cui non hanno un rapporto diretto di DNA ma per questo stesso altruismo sono anche capaci di uccidere e di imporre la propria violenza quindi questo rapporto ambiguo diciamo tra la natura buona progressiva esplorativa scientifica dell'uomo e invece una sua indole violenta e portata a sopravvazione è vecchia quanto il mondo abbiamo degli esempi di scienziati Archimede famoso nello scoprire la formula per calcolare il volume della sfera ma anche per le macchine da guerra nell'assedio di Siracusa Galileo Galilei che tutti conosciamo appunto per le sue scoperte scientifiche anche nel campo appunto della fisica e dell'astrofisica guadagnava il lunario insegnando all'università non una materia che si chiamava fisica o astrofisica ma fortificazioni questo era il suo insegnamento all'università di Padova nel XVII secolo e quindi la corsa allo spazio è in realtà l'aspetto forse più spettacolare di questa ambiguità una pulsione scientifica pacifica che mette insieme l'umanità e invece una competizione che divide l'umanità nazioni che competono tra di loro e anzi utilizzano le tecnologie per minacciare la distruzione l'una dell'altra e parlando di armi nucleari anche dell'intera umanità una analogia storica che vedo molto forte è con l'età delle scoperte quella di Cristoforo Colombo Vasco Dugama dove appunto di fronte a tante scoperte che hanno portato alla globalizzazione insomma la scoperta degli altri continenti in realtà le motivazioni erano molto spesso invece brutali quelle della conquista del profitto e soprattutto quella che non ci andasse un altro europeo prima e quindi c'era una gara a scoprire tutti gli angoli del mondo per colonizzarli prima che ci fosse un competitore a farlo questo rapporto stretto tra appunto la competizione militare e il progresso tecnologico è evidente ancora oggi nonostante sono tanti decenni che non ci sono più le guerre questo è un telefonino moderno e vedete le principali tecnologie non tutte sono state sviluppate per fini bellici vedete che il CERN ha scoperto alcune interfaccia che venivano usate nei primi telefonini e ovviamente i protocolli che utilizziamo per le mail e per internet gli HTTP e gli HTML quasi tutto però è di origine militare il DARPA è l'agenzia americana che finanzia la tecnologia militare che ha invitato il microprocessore ha inventato la miniaturizzazione dei dischi rigidi ha inventato internet si chiamava prima ARPANET internet il DOD è il dipartimento della difesa quindi proprio il ministero della difesa che ha inventato il GPS quello che ci permette di muoverci con Google Maps ha inventato perfini ovviamente degli aerei da combattimento sia la possibilità di toccare di schermi sia gli schermi e cristalli liquidi e anche la tecnologia cellulare e poi appunto altre cose sono gli accelerometri e i giroscopi che servono a far girare i missili ma anche i nostri iPhone e anche le batterie vengono da un progetto del Dipartimento dell'Energia finanziato però dal Ministero della Difesa per avere appunto delle energie portatile quindi anche in uno strumento pacifico come quello con cui facciamo telefonate in realtà sono tecnologie sviluppate principalmente per fini militari e questo è verissimo è già stato detto per quanto riguarda anche l'esplorazione lunare per arrivare sulla Luna ci vuole un missile ma i missili sono stati inventati non per andare sulla Luna sono stati inventati per colpire le altre potenze contestate nucleari e visto che le superpotenze erano lontane non erano vicine dovevano avere un raggio intercontinentale e per andare da un continente all'altro è molto più facile andando in orbita e colpendo senza dover invece utilizzare delle rotte diciamo cruise come vengono chiamate quindi l'obiettivo di riuscire ad avere un oggetto che vola in orbita è puramente militare e non a caso infatti Werner von Braun citato prima comincia negli anni 30 in Germania nella Germania nazista per costruire una serie di cose famoso per la V2 che colpiva Londra ma in particolare il primo progetto di missile intercontinentale è un A-10 del cosiddetto progetto America America con la K in cui i nazisti volevano bombardare New York fa un primo test questo missile nel 1945 e ovviamente non viene mai lanciato viene solo testato però appunto Von Braun appena finisce la guerra pochi mesi dopo viene impacchettato portato in America e diventa importante nello sviluppo successivo come è stato detto i sovietici a lungo sono primi nella corsa verso lo spazio sviluppano il primo missile intercontinentale l'R-7 e dimostrano che sono in grado di colpire gli Stati Uniti senza colpire gli Stati Uniti ma mandandolo Sputnik in orbita dopodiché mandano anche Yuri Gagarin la Laika prima anche la prima astronauta femmina perché i sovietici da quel punto di vista della pari opportunità erano molto più avanti negli anni 60 rispetto alla NASA quindi un missile sviluppato per colpire con le bombe atomiche gli Stati Uniti è stato utilizzato dal programma Sputnik da quello Vostok e da quello Soyuz e tuttora è in servizio tra l'altro l'ultima versione degli R-7 gli Stati Uniti hanno più agenzie quindi sono in competizione tra di loro è forse anche una delle regioni della loro capacità innovativa e quindi sviluppano più programmi il primo missile intercontinentale viene sviluppato anch'esso nel 57 è il missile Atlas e viene utilizzato per il primo progetto di UOMU intorno all'orbita al progetto Mercury il secondo missile sviluppato per colpire l'Unione Sovietica il Titan viene usato per il progetto successivo quello Gemini quindi c'è un legame fortissimo tra la volontà di sviluppare delle armi capaci di distruggere in maniera nucleare una superpotenza dall'altra parte del pianeta e la capacità di andare in orbita perché sono la stessa cosa da questo punto di vista a dire il vero negli anni 60 divorziano negli Stati Uniti l'Unione Sovietica continuano con gli R36 divorziano le due necessità anche se ovviamente le tecnologie sono molto simili però come è stato detto andare sulla Luna comporta un payload un peso da portare così forte che diventa inutile usarlo per fini militari e quindi viene sviluppato per la prima e ultima volta nella storia della missilistica americana un missile che non aveva un fine militare diretto e cioè i Saturn il programma Saturn ci sono stati varie edizioni anche l'Ursa in realtà un missile sviluppato negli anni 60 che è tuttora in commercio che viene utilizzato dai competitor di Bezos privati che vogliono andare e usano dei missili Proton in ogni caso diciamo le esigenze specifiche della missione fanno sì che come eccezione però venga sviluppato un missile solo per fini diciamo di esplorazione spaziale tutti gli altri missili sono mutuazioni da ragioni belliche e questo per una semplice ragione di economia di scala visto che il bilancio della NASA l'abbiamo visto era ingente ma quello del Dipartimento della Difesa era multipli il numero di missili il numero di testate che sviluppavano le superpotenze era incommensurabile dal punto di vista di quanto gli servissero i missili per andare sulla Luna ci tengo a sottolineare perché è una delle questioni più difficili da spiegare e da studiare il fatto di perché le superpotenze abbiano dovuto sviluppare così tanti missili nucleari nel senso che il picco per gli Stati Uniti viene raggiunto nel 66 subito prima delle missioni Apollo con più di 30.000 testate nucleari mentre l'Unione Sovietica continua a costruirne fino agli anni 80 l'era Gorba ciò che arriva a 40.000 quindi c'è stato un momento in cui c'erano 70.000 armi nucleari nel mondo e questo probabilmente era una sua gara nel senso che sono sufficienti ciascuna di queste armi è molto più distruttiva delle bombe di Hiroshima e Nagasaki quindi sono capacità di distruggere l'intero pianeta decine di volte probabilmente c'era solo l'idea di averne una in più o una un po' più potente dell'altro quindi la competizione aveva perso ogni senso razionale infatti vedete gli Stati Uniti dove il congresso il sistema universitario tende a imporre un po' più di razionalità al governo ad un certo punto a 30.000 sono fermati perché non ce n'era più bisogno comunque adesso è finita la guerra fredda per fortuna siamo in un'area di pace e abbiamo ridotto a sole 6.000 armi nucleari per parti e gli arsenali però oggi ce ne sono ancora più di 10.000 come è stato raccontato l'allunaggio è un grande sorpasso cioè gli Stati Uniti che sono indietro nel 61 quando viene lanciato dal presidente Kennedy l'obiettivo l'anno dopo c'è la grande crisi di Cuba dove si è andati veramente è stato il momento più teso dal 1945 a oggi dove si è andati a un passo dalla guerra e invece verso la fine degli anni 60 c'è questo grande successo ed è un grande successo americano tanto che la prima bandiera che viene posta è questa anche se però come è già stato ascoltato nel clip e raccontato la NASA ha un atteggiamento ambiguo rispetto all'apparato militare appunto ne è connivente in qualche modo ma c'è un forte spirito scientifico per cui questo è venuto fuori ancora di più con le missioni Voyager e tutto il simbolismo delle missioni Voyager comunque appunto non dicono le prime parole di un uomo sulla luna è un grande vittoria per il mio paese dice un grande passo avanti per l'umanità e perché questa grande impresa nazionale ce la ricordiamo come un grande passo per l'intera umanità io credo che come è stato detto molto abbia a che vedere con quelle foto non solo della luna ma della terra vista dalla luna che dimostrano tutta la sua unità e anche la sua palida fragilità sicuramente la sensibilità ambientalista nasce negli anni 70 a seguito di questa grande missione il fatto che appunto ci sia un ecosistema fragile e unico e finalmente dopo 50 anni sta cominciando a diventare qualcosa di più di una ideologia o di una preoccupazione sta diventando anche fonte seria di ricerca scientifica e si spera di politiche pubbliche quella di mantenere la sopravviabilità di questo sistema a livello politico contribuisce alla distensione abbiamo grandi momenti degli accordi sulla limitazione degli armamenti nel 72 e nel 75 a livello spaziale porta gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica a mantenere un po' di competizione ma anche a collaborare c'è l'incontro tra una navetta Soyuz e una navetta Apollo nel 1975 il 17 luglio quindi andiamo in tre giorni in anticipo rispetto al cinquantesimo dell'allunaggio però celebriamo proprio oggi l'anniversario di quell'incontro dove si danno la mano i due astronauti quindi non c'è uno scambio politico significativo c'è uno scambio molto umano dove appunto si collegano le navette e si stringono dopodiché si sviluppa anche i sovietici si concentrano sulle basi spaziali perché ormai appunto non c'è più novità nell'arrivare sulla Luna e quindi il programma Mir gli shuttle hanno la finalità di essere riutilizzabili e c'è una congiunzione dei due che oggi ha portato al progetto della stazione spaziale internazionale e quindi tutto questo fa sì che nonostante sia nata proprio durante la guerra fredda che fosse un'espressione della parte più dura più pericolosa della guerra fredda cioè gli scambi nucleari tra missili intercontinentali ciò nonostante ha avuto un effetto politico culturale sociale anche positivo di unità non di divisione di competizione ma di unità concludo con una constatazione che appunto questa ambiguità permane abbiamo dato un accento più umanitario e più unitario dopo questa grande impresa dell'allunaggio però però non sono sparite le competizioni tra potenze mondiali questa è una lista delle dieci nazioni che hanno mandato qualcosa in orbita che hanno un programma spaziale in qualche modo in ordine non in ordine perché sono in ordine invece di quando hanno esploso il primo test atomico e vedete che quasi tutte le nazioni che hanno fino adesso dimostrato di essere in grado di mandare un oggetto in orbita sono anche potenze nucleari perché questo legame tra una capacità scientifica e una capacità militare permane ci sono due eccezioni una è l'Iran che però non ha mai esploso detonato un test atomico pertanto non c'è la sua capacità nucleare però come sapete decenni che ci prova all'arricchimento dell'uranio fino a un livello di appunto di capacità di armamento e l'altro Giappone Giappone avrebbe ovviamente la capacità di sviluppare armi nucleari ma essendo l'unico paese che ha ricevuto un attacco nucleare a Hiroshima e Nagasaki c'è un enorme tabù nello sviluppo di armi nucleari per cui sono le due eccezioni tutte le altre potenze spaziali sono dotate anche di armi nucleari e le due cose appunto hanno una ragione tecnologica ma anche una ragione politica sono le frontiere della potenza nel ventunesimo secolo la capacità di colpire dovunque dentro l'atmosfera terrestre ma anche fuori e la capacità di distruggere totalmente quello che si tocca la cosa che mi viene per rispondere alla domanda che mi era stata posta e poi mi taccio è che in questa fase della politica internazionale dopo la fine della guerra fredda è difficile che si creino delle competizioni semplici e a due come erano coppie Bartali o Stati Uniti Unione Sovietica negli anni 60 gli attori sono molti e ciascuno ha il suo nemico con cui competere quindi sicuramente la Cina sta rincorrendo gli Stati Uniti è già andata sulla dark side of the moon da questo punto di vista ma l'India compete con la Cina e il Giappone compete con l'India e la Cina e quindi è molto più complicato riuscire a prevedere il futuro perché ci sono appunto molti più attori che rendono più complicato l'esito finale di questa gara grazie molto bene molto interessante molto interessante e adesso passiamo avanti e parliamo a questo punto degli aspetti artistici e letterari abbiamo il professor Battistini che ci illustrerà il suo punto di vista credo che sia altrettanto importante e integrativo dei discorsi che stiamo facendo grazie ma dunque intanto il titolo già quello ha una allusività letteraria perché gioca sulle parole è un po' quello che gli inglesi chiamerebbero un pan perché conquistati dalla luna allude al fatto che l'uomo ha conquistato la luna ma in realtà ne è conquistato è un po' come visto che si parlava anche di di ragioni militari oltre che culturali è un po' come il detto di Orazio potremmo dire luna capta victorem victorem cepit cioè la luna conquistata ha conquistato il vincitore ed effettivamente è l'uomo a essere conquistato nel momento in cui l'uomo ha conquistato la luna così come c'è un'allusione c'è un gioco di parole anche nel termine attrazione attrazione è quella scientifica della forza di gravità ma è anche l'attrazione che noi abbiamo emotiva sentimentale fascinosa insomma che sentiamo verso la luna patrizia caraveo è un astrofisico abbiamo sentito però se è naturale che abbia una grande spazio il discorso scientifico nel suo libro però non è soltanto questo e soprattutto ha il pregio questo libro di non essere specialistico di essere di essere accessibile diciamo al lettore comune mediamente colto a parte il fatto che c'è anche una notevole straordinaria dimensione estetica che è data anche da queste fotografie che avete visto che sono meravigliose alcune non erano note sono prese direttamente dalla NASA e quindi anche piacevole diciamo da sfogliare oltre che da leggere il suo l'abbiamo sentito è un un excursus della storia delle missioni spaziali dal 57 fino a oggi con alti e bassi che abbiamo sentito con dei momenti molto intensi dei momenti di stanca di stallo e effettivamente potremmo leggere questo libro come un romanzo perché si tratta di una di una vicenda molto avventurosa però ci sono anche delle altre implicazioni che abbiamo sentito intanto economiche insomma possiamo dire realisticamente che a mandare l'uomo sulla luna non è stato tanto o solo il razzo il propellente che l'ha portato ma è stato soprattutto il budget che ha consentito di fare queste ricerche con anche delle implicazioni che sono quelle del rapporto fra costi e benefici dove tra i benefici non c'è soltanto l'aspetto materiale ma c'è anche e abbiamo visto sembra quasi preponderante insieme con il progresso tecnologico anche quello dell'immagine che ne viene della ricaduta anche di notorietà di fama di prestigio eccetera quindi c'è una dimensione anche economica ma a questo punto c'è anche una dimensione giuridica perché ormai non basta più il diritto internazionale ci vuole un diritto spaziale chi è che avrà diritto di possedere territori della luna è difficile pensare che sia come nel far west cioè il primo che arriva il primo che usa un recinto usa del filo spinato quello diventa proprietario di quel terreno che è stato recintato poi c'è quindi c'è tutta una legislazione anche da fare qui si accenna ma c'è anche l'abbiamo appena sentito una dimensione spaziale tre giorni fa era la festa nazionale della Francia e Macron ha parlato addirittura di un esercito spaziale sembra che la Francia torni al mito della grandeur eccetera non basta la terra basta ci vuole un esercito che proprio ha definito spaziale come se appunto dovesse dovesse avere insomma la Francia è stata non a caso la patria di Jules Verne e quindi anche Macron si proietta in avanti nel libro poi ci sono anche dei riferimenti molto sobri peraltro ma opportuni alla letteratura soprattutto alla fantascienza c'è questa Truvai diciamo questa scoperta di Pulcinelli nella luna sulla luna che è del 1836 e poi appunto il famosissimo romanzo anche per la letteratura per l'infanzia di Verne dalla terra alla luna ecco a proposito entrando poi nel discorso letterario a proposito della fantascienza noi pensiamo che sia un genere di consumo un genere di intrattenimento esiste una collana urania che è fatta per il grande pubblico in realtà la fantascienza è un genere molto difficile molto difficile perché è un genere si direbbe ossimorico cioè deve conciliare due aspetti tra loro opposti perché la fantascienza deve da una parte avere delle competenze scientifiche che rendano verissimile il discorso e al tempo stesso deve avere anche questo slancio utopico immaginario immaginativo che vada oltre quella che è la situazione attuale della scienza e della tecnica quindi da una parte diciamo precorrere le invenzioni le scoperte nuove realtà nuovi ritrovati ma dall'altra deve farlo in modo plausibile ecco quindi conoscere anche il presente per preconizzare il futuro insomma come ormai succede per tutto bisogna tornare ad Aristotele Aristotele aveva già capito in cosa consiste la letteratura in particolare la fantascienza bisogna rendere l'impossibile credibile questa era la formula che usava Aristotele andare sulla luna andare adesso su un corpo celeste lontanissimo pare impossibile al momento al presente bisogna rendere la cosa credibile e con ovviamente l'impossibile credibile è chiaro che i poeti sono arrivati prima degli scienziati sulla luna ci sono già racconti di Luciano per esempio dell'antica Grecia che immaginavano un viaggio sulla luna però ecco quello che così ripensando un po' a questa a questo tema di cui parliamo oggi mi sembra che sia da sottolineare è che in termini generali in realtà è statistici e quantitativi se vogliamo i letterati poeti non sono in realtà tanto interessati a descrivere la l'approdo l'allunaggio l'approdo dell'uomo sulla luna quanto mostrare quelli che sono diciamo i sentimenti i sogni le emozioni le suggestioni le stimolazioni per la fantasia la capacità di eccitare delle domande che questa questa impresa questo compito scientifico ha sollevato questo non vuol dire perché non si può ragionare in termini dicotomici le due culture scienze letterature eccetera che gli scienziati invece siano solo dei freddi ragionatori e non facciano altro che usare la ragione freddamente perché se noi guardiamo quello che scrivono gli scienziati quando fanno scienza quindi fanno il loro mestiere vediamo che questo loro modo di fare scienza è sempre circondato da una specie di alone emotivo di emozione che sotto traccia c'è in tutti faccio solo un paio di esempi il siderius nuncius che cade a proposito perché lì ci sono tra le prime fondate illustrazioni della faccia che noi vediamo della luna perché in quel caso con il cannocchiale Galileo le vedeva più da vicino e quindi sono le prime notevoli approssimazioni rispetto a quello che si poteva vedere occhio nudo bene il siderius nuncius è un arido apparentemente diario di bordo Galileo tutte le mattine pazientemente registravo tutte le notti registrava quello che aveva visto col cannocchiale pazientemente segnava la posizione dei satelliti di Giove i quattro che aveva scoperti dove erano da una sera all'altra pazientemente descriveva quello che vedeva ogni sera sulla faccia della luna i monti le valli eccetera quindi è un diario di bordo è un giornale di bordo però cosa dice Galileo quando vede queste cose dice per esempio di avere osservato non sine ali quacum admirazione cioè non senza un senso di stupore di meraviglia queste cose incredibili incredibili animi iucunditate cioè un godimento dell'anima che non si può spiegare incredibile magna longeque ad miraviglia spettacola spettacolum pulcherrimum atque visu iucundissimum un godimento a vedersi strepitoso straordinario insomma anche gli scienziati hanno un'anima poetica e questo l'aveva capito un grande ammiratore di Galileo che era Calvino il quale dice questo nelle pagine sulla luna quando Galileo parla della luna il linguaggio di Galileo non è come uno strumento neutro ma con una coscienza letteraria con una continua partecipazione espressiva immaginativa addirittura lirica insomma questa è un po' la prova che non esistono di fatto le due culture lo scienziato è preso catturato anche lui dalla fantasia dall'immaginazione così come il letterato usa la razionalità quando deve fare i suoi lavori un esempio di questo di questo connubio è dato appunto in questo caso da uno scienziato antico mi sono limitato perché l'argomento sarebbe infinito a prendere un po' degli esempi degli esempi poco noti laterali quindi di Leopardi sarà appena fatto il nome perché lo conosciamo tutti abbiamo tutti letto le sue poesie alla luna eccetera questa volta cito Plinio il Vecchio Plinio il Vecchio ha scritto una naturalis storia che è un'enciclopedia proprio in senso etimologico è un cerchio che contiene tutto lo scibile di greco romano dell'antichità e uno dei libri è dedicato anche all'astronomia e cosa dice dice una cosa interessante intanto supera la meraviglia di tutti omnium admirationem vincit quindi anche qui c'è questo stupore che cattura vince seduce affascina anche lo scienziato supera la meraviglia di tutti l'ultimo degli astri ultimo nel senso che il più vicino rimedio alle tenebre escogitate o scogitato dalla natura la luna ecco un po' immaginosamente Plinio ha questa visione si direbbe teleologica perché esiste la luna nel cielo esiste la luna perché è un ritrovato della natura che serve a vincere le tenebre anche di notte diceva Luisa Marchini un po' il corrispettivo notturno del sole ma c'è un'altra cosa che è interessante che dice Polimorfa sì perché la luna infatti si dice è un lunatico lunatico a parte che in inglese vuol dire che è un pazzo lunatico è quello che cambia molto l'umore probabilmente nasce dal fatto delle fasi lunari e c'è tutta una tradizione mitico-antropologica su questo nesso ma comunque Polimorfa la luna ha torturato col dubbio la mente dei suoi osservatori incapaci di sopportare che proprio l'astro più vicino restasse sconosciuto ecco questo è interessante questa cosa che Plinio fa più di duemila anni questa osservazione cioè perché c'è la luna c'è la luna perché stimola nell'uomo la sete di sapere perché è una sfida all'uomo con il suo mistero con il suo con questo senso dell'ignoto che avvolge la luna la luna funge da catalizzatrice da ispiratrice insomma per avanzare far avanzare la conoscenza e da questo punto di vista gli scienziati sono stati a loro volta dei grandi ispiratori dei poeti ne cito solo uno perché viene citato anche con un certo affetto in quanto legato al ricordo di Nanni Bignami Flammarion Flammarion è un astronomo che ha scritto un libro fortunatissimo a fine ottocento Astronomie Populaire che ha ispirato tutte le poesie cosiddette astrali di di Pascoli senza Flammarion Pascoli aveva tutta una cultura classica moderna eccetera ma senza Flammarion non avrebbe scritto per esempio il Bolide non avrebbe scritto la comedia di Halley non avrebbe scritto il Ciocco che è anche questo una poesia una lunga poesia astrale ecco tra l'altro si potrebbero fare delle analisi che non faccio proprio filologiche quando nel Ciocco parla della neve dell'eternità la neve cosa c'entra apparentemente beh aveva trovato questa cosa in un'immagine di Flammarion che nel capitolo dedicato alle comete immagina o pensa che sia dalla vetta che dalla vetta dei monti della luna il lenzuolo della neve scenderà sugli altipiani e nelle valli cacciando cacciando innanzi a sé la vita questa immagine così non so dove gli sia venuta l'idea che ci fosse la neve ma insomma evidentemente anche questi scienziati popolari avevano una loro spiccata fantasia è inevitabile citare Leopardi però per quale ragione semplicemente per dimostrare che i poeti più che descrivere la luna oggettivamente la sentono la vivono la immaginano appunto la luna non interessa al poeta per quello che è oggettivamente al poeta interessa l'emozione che la luna suscita soggettivamente in lui e infatti anche statisticamente Leopardi usa quando parla della luna pochissimi aggettivi descrittivi oggettivi la luna sì è cadente infatti una sua poesia è il tramonto della luna la luna è candida è aurea quando ha una certa una certa rifrazione la luna è recente quando è reduce dalla luna nuova è rugiadosa e anche questo in fondo è una descrizione oggettiva perché un'antica superstizione voleva che la luna di notte mandasse sulla terra con i suoi raggi attraverso i suoi raggi la rugiada la rugiada che era fecondatrice che faceva che faceva crescere le piante le fecondava eccetera ma a fronte di questi pochi aggettivi oggettivi ce ne sono tantissimi soggettivi valutativi la luna è graziosa la luna è diletta la luna è cara la luna è pensosa silenziosa tacita vergine vergine c'è un'allusione all'identificazione della luna con Maria e infatti nel famoso affresco di Santa Maria Maggiore a Roma il Cigoli che guardò copiò copiò letteralmente le immagini che Galileo col canocchiale aveva disegnato nel Siderius e ha messo la vergine sopra la luna con le macchie appunto di Galileo ecco quali sono dunque le sensazioni emozioni sentimenti che la luna ispira ai poeti ma poi vuol dire in questo caso agli uomini comuni poeti sono semplicemente quelli che riescono a dire quello che tutti sentono ma che non a tutti è dato di poter esprimere cioè non è che siano una razza diversa sono sono delle sensazioni che come l'uomo è complesso così sono queste sensazioni che non sono mai univoche ma sono addirittura anche queste ossimoriche contraddittori contrastanti perché perché di fronte alle scoperte scientifiche in termini generali l'uomo e il poeta è quello che sa dire bene queste sensazioni è preso da due opposte emozioni sensazioni una è di entusiasmo l'altra è di disperazione di sconforto questo avviene per esempio già con Galileo faccio esempi paralleli 1610 Galileo scopre scopre insomma evidentemente in modo convincente perché perfino i gesuiti sui avversari si mettono d'accordo accolgono questo risultato di Galileo che la luna è esattamente come la terra c'ha i monti le valli addirittura dovrebbe avere i mari infatti esiste ancora oggi la nomenclatura mare di monte eccetera quindi è come la terra quali sono le emozioni le sensazioni di questa scoperta sono di due segni sono duplici gli effetti una è certamente di entusiasmo di entusiasmo di immensa meraviglia e gioia perché si dimostra che l'uomo che ha tutte le fragilità che conosciamo avendo però il pensiero riesce addirittura a sfidare l'ignoto l'infinito eccetera lo stesso cannocchiale nel seicento viene preso come emblema della natura umana che è fragile debole ma al tempo stesso avendo il pensiero è la superiore a tutte le altre creature cannocchiale come è fatto dicevano i poeti marino per esempio è detto brutalmente ma in modo intenzionale è un tubo è un tubo con due pezzi di vetro con uno strumento così fragile si è riusciti comunque a vedere per esempio la via lattea a capire a intuire l'infinito è quell'atteggiamento di entusiasmo rispetto alla forza alla potenza dell'ingegno umano che è riassunto da Pascal in uno dei suoi pensieri l'uomo è fragile come una canna che basta un vento che per abbatterla Pascal dice anche un raffreddore è sufficiente per ammazzare un uomo quindi qual è la creatura più fragile dell'uomo però diceva ancora Pascal è una canna che pensa come dire con il pensiero può vincere tutte le sue debolezze ma al tempo stesso però queste scoperte scientifiche sensazionali gettano anche l'uomo nello sconforto c'è anche l'altra dimensione gettano l'uomo nella delusione addirittura se non nella disperazione certo nello smarrimento perché cosa voleva dire la scoperta delle macchie sulla luna la scoperta che la luna è esattamente come la terra voleva dire che non ci sono più delle osi non ce ne sono più dei luoghi utopici di perfezione non ci si poteva più consolare proiettando come fa come fa Riosto tutte le debolezze dell'uomo sublimandole portandole sulla luna la scoperta dell'infinità dei mondi segna la fine dell'antropocentrismo l'uomo è una nullità nell'universo e quindi c'è anche quest'altro sentimento anche qui espresso in modo sublime da Pascal quando dice che il silenzio è un pensiero straordinario il pensiero il silenzio eterno di questi spazi infiniti mi atterrisce quindi non c'è soltanto l'entusiasmo c'è anche il terrore di fronte alle nuove scoperte lo smarrimento tutto questo lo si vede anche per tornare al discorso dell'oggi a proposito delle conquiste spaziali eccetera e anche qui cito due brevissime poesie di segno contrario credo pochissimo note ma le ho scelte a posto per non dire le solite cose sempre Quasimodo dunque primo lancio abbiamo sentito 4 ottobre 1957 Quasimodo scrive queste tre queste tre strofette Dio creò il cielo e la terra e poi nel suo giorno esatto mise i luminari in cielo qui i luminari è un'allusione perché se andate a leggere il Genesi nella Bibbia i corpi celesti sono chiamati luminari quelli che fanno luce dopo miliardi di anni l'uomo nel cielo sereno di una notte d'ottobre si riferisce al lancio dello Sputnik 4 ottobre 57 mise altri luminari uguali a quelli che giravano dalla creazione del mondo quindi l'uomo come Dio l'uomo Dio l'uomo dopo miliardi di anni viene equiparato a Dio questo è diciamo l'effetto emotivo di segno positivo indotto dalla corsa spaziale ma leggiamo anche l'altra quella che disacra le scoperte spaziali e qui cito un poeta poco noto ma insomma non hai più che è Giacomo Noventa che ha scritto anche in dialetto veneto anche qui qui è una è una poesiola che è stata scritta in occasione del volo della cagnetta laica primo essere vivente andato nello spazio cosa dice Noventa dice in alto in alto nel cielo dove una volta ai miei veci ai me veci se mostrava il Signor vola una cagna ecco di là l'uomo era uguale a Dio adesso la dissacrazione la sconsacrazione allora c'era il Signore in cielo si pensava sempre a Dio nell'alto nell'alto dei cieli adesso c'è una cagna profamazione violazione addirittura Andrea Zanzotto forse il maggiore poeta del Novecento parla della conquista della Luna come uno stupro uno stupro sacrilego ma non è non è la prima volta quando quando Newton scoprì le leggi della diffrazione nell'ottica Keats insorse dicendo ecco accusò accusò Newton di avere oscurato le finestre dell'anima i colori immaginati che so iride l'arcobaleno tutti i miti eccetera dissacrati da questo arido calcolo della della banda spettrografica con cui la luce viene scomposta veniva scomposta da ecco questo è l'oggetto di un dibattito con cui mi avvio a finire che sorse negli anni sessanta esattamente al culmine di queste corse per la conquista dello spazio tra due scrittori una era Anna Maria Ortese e l'altra era Calvino cosa dice Anna Maria Ortese cito queste perché sono in due interventi giornalistici sono apparsi sul Corriere della Sera subito dopo una di queste imprese spaziali cosa dice sono i due poli le due anime che diciamo agitano l'uomo di fronte a questi straordinari eventi umani Anna Maria Ortese dice non c'è volta che sentendo parlare di lanci spaziali di conquista dello spazio eccetera io non provi tristezza e fastidio e nella tristezza c'è del timore nel fastidio c'è dell'irritazione forse sgomento e ansia mi domando perché i silenzi che scendevano di là aveva detto dall'immensità dello spazio che si apre al di là di qualsiasi orizzonte erano consolatori e capaci di restrizioni di restituzioni a un interiore equilibrio ora questo spazio è sottratto al desiderio di riposo di ordine di beltà allo straziante desiderio di riposo di gente che mi somiglia diventerà fra breve probabilmente uno spazio edilizio infatti abbiamo visto gli scrittori spesso anticipano quello che poi è la realtà abbiamo visto queste specie di iglu saranno le prossime case sulla luna oppure nuovo territorio di caccia di meccanico progresso di corsa alla supremazia al terrore non posso farci nulla naturalmente ma questa nuova avanzata della libertà di alcuni non mi piace a questo discorso che in realtà è un po' retro e darebbe ragione se fosse così unanime presso gli scrittori a Snow quando diceva che sì gli scienziati hanno il futuro nel sangue mentre i letterati sono dei reazionari a questo discorso però ha replicato Calvino in un articolo di giornale come replica intitolato occhi al cielo il quale dice un'altra cosa che credo sia più matura e più profonda di quella dell'Ortese dice guardare il cielo per consolarci delle brutture terrestre ma non le sembra una soluzione troppo comoda se si volesse portare il discorso alle estreme conseguenze si finirebbe per dire continui pure la terra andare di male in peggio tanto io guardo il firmamento e ritrovo il mio equilibrio e la mia pace interiore non le pare di strumentalizzarlo malamente questo cielo sì aveva ragione però con questo non è che Calvino voglia diciamo esaltare entusiasmarsi per i progressi spaziali dice le notizie di nuovi lanci spaziali sono episodi di una lotta di supremazia terrestre lo sappiamo bene ma ciò che interessa è che l'appropriazione dello spazio celeste è conoscenza e questo è il nucleo abbiamo visto ci sono interessi c'è questioni di prestigio competizione fra nazioni ma poi per fortuna magari senza volerlo da parte dei politici tutto questo ha prodotto un progresso una conoscenza significa dunque dice Calvino uscita dal nostro quadro limitato la luna fin dall'antichità abbiamo sentito Plinio il vecchio fin dall'antichità ha significato per gli uomini questo desiderio e la devozione lunare dei poeti così si spiega la poesia dunque non riflette solo la realtà la trasfigura la luna dei poeti dice non ha niente a che vedere con le immagini lattiginose buccherellate che i razzi trasmettono però tutto questo sto parafrasando per fare prima ci obbliga a ripensare le cose in un modo nuovo ecco ci crea quello che i formalisti chiamavano lo straniamento beh c'è stata una conquista sulla luna beh guardiamo la luna in un modo nuovo diverso dal famoso 20 luglio 69 la luna non è più stata quella che era stata per duemila anni non solo per gli scienziati ma anche per i poeti anche per gli uomini per gli uomini comuni quello che si acquista con le imprese spaziali dice infine Calvino riguarda non solo le conoscenze specializzate degli scienziati ma anche il posto che queste cose hanno nell'immaginazione e nel linguaggio di tutti ed è in questo modo che si entra nei territori della letteratura e finisco un po' per divertirsi un po' in ridere con una poesiola che però ha sempre nel fondo una sostanza a volte molto più profonda di queste di questi discorsi enfatici alla Quasimodo di Gianni Rodari Gianni Rodari sappiamo scriveva queste apparenti favolette per bambini che però hanno una loro profondità e ha scritto delle quartine di ottonari quindi molto cantabile volendo si poteva musicare in una poesiola che si intitola Sulla Luna e dice così Sulla Luna per piacere non mandate un generale ne farebbe una caserma con la tromba e il caporale non mandateci un banchiere sul satellite mette d'argento o lo mette in cassaforte per mostrarlo a pagamento tutte le imprese spaziali privati eccetera non mandateci un ministro col suo seguito di uscieri beh però mandarci Salvini non sarebbe male comunque non mandateci un ministro col suo seguito di uscieri empirebbe di scartoffie i lunatici crateri ha da essere un poeta sulla Luna ad allunare con la testa nella Luna lui da un pezzo ci sa stare a sognare più bei sogni è da un pezzo abituato sa sperare l'impossibile anche quando è disperato or che i sogni e le speranze si fan veri come sogni sulla Luna e sulla Terra fate largo ai sognatori quindi sognate sognate la Luna grazie grazie chiaramente abbiamo ancora qualche minuto solo per eventualmente una domanda o due se qualcuno vuole fare rapidamente credo che ci siano state tre relazioni tutte e tre interessanti ovviamente diverse e complementari se non c'è nessuna domanda l'ultima la faccio io in questo senso nel tuo libro si parla anche di Marte allora qui la grande domanda è la solita conviene tornare sulla Luna o bisogna andare su Marte cosa conviene fare io ho la mia posizione che ti dico che non ci sarà un primo uomo su Marte no nel senso che ci sarà una prima donna esatto e qui ah ma è già fregato cioè sì ci sarà una prima donna perché è giusto è lì punto quindi andremo su Marte ma ci andrà una donna va bene così tu prima hai detto che gli astronauti per bacco erano tutti uomini stavolta su Marte ci andiamo una donna va bene siamo d'accordo io e te almeno assolutamente bene dai allora almeno questo va bene allora dici un attimo questa storia quindi si va su sto Marte o non ci si va quello lì dipende molto dall'inquilino della Casa Bianca perché la NASA obbedisce agli ordini del Presidente e a seconda del Presidente il corpo celeste preferito cambia George W. Bush spingeva per la Luna è arrivato Obama e ha detto che voleva portare astronauti su Marte entro il 2030 è arrivato Trump che ha detto no signori io voglio tornare sulla Luna in effetti in effetti poi dice che il ritorno alla Luna è una via per arrivare a Marte dice anche un sacco di sciocchezze nel tempo che è riuscito a dire che la Luna è parte di Marte che ha lasciato un po' perplessi gli astronomi hanno detto ops non ce ne eravamo mai accorti ma forse voleva dire che appunto il ritorno alla Luna faceva parte di un piano di più amplio respiro per tornare a Marte allora le opinioni sono diverse nessuno mette in dubbio che tornare sulla Luna per preparare le missioni a Marte sia un modo saggio di diciamo a fare le missioni passo dopo passo perché se uno vuole sviluppare delle tecnologie vuole provare i modi per costruire villaggi su un altro pianeta eccetera la Luna è più vicina la Luna ci si mette tre giorni ad andare Marte ci vogliono nove mesi quindi il viaggio è veramente la parte più difficile la parte più pesante dal punto di vista medico perché quando gli astronauti sono in viaggio è molto molto difficile proteggerli dalle radiazioni dai raggi cosmici che possono avere un effetto molto pesante sul corpo umano comunque rimane il fatto che andare sulla Luna è costoso ovviamente andare su Marte è più costoso che andare sulla Luna andare sulla Luna ci vorranno tra 50 e 100 miliardi andare su Marte ce ne vogliono mille allora è tanto è poco bisogna sempre tenere conto di quello che le grandi nazioni spendono nei budget militari nessuno a noi vengono a chiedere agli scienziati vengono a chiedere ma perché fate gli esperimenti scientifici tutto sommato qual è il beneficio per l'umanità qual è che cosa che cosa viene a casa al pagatore di tasse che è quello che alla fine vi sostiene nessuno chiede mai a un generale perché ha bisogno dei carri armati o perché si vogliono fare gli F35 delle dei concentrati di tecnologia pensati ovviamente per la guerra quindi per uccidere che peraltro costano tantissimo e non funzionano quindi la c'è c'è sempre una differenza di peso e di misura tra le grandi imprese scientifiche e la realtà di tutti i giorni delle spese militari allora il vero problema è che andare sulla luna continua a essere costoso non esiste un modo low cost di andare sulla luna perché specialmente se ci sono gli astronauti bisogna avere dei margini di sicurezza molto maggiori di quelli accettati dalle missioni Apollo quindi il timore dei marziani tra virgolette quelli che vogliono andare su Marte è che andare sulla luna richiede talmente tanti sforzi economici fondamentalmente che non rimarranno le risorse per fare veramente l'altro passo che è andare su Marte quindi speriamo insomma vediamo non sono io che decido quello che fa la NASA è l'inquilino della Casa Bianca la cosa interessante è che appunto Trump ha chiesto alla alla NASA di mettersi a correre disperatamente perché gli ha detto che vuole che torni sulla luna entro il 2024 per 50 anni non ci hanno neanche lontanamente pensato poi improvvisamente a questo viene in mente voglio tornare sulla luna e voglio andarci domani è un po' un po' così un modo di fare non particolarmente rispettoso della professionalità di tutta l'agenzia spaziale tuttavia quello che i maliziosi si chiedono è e se Trump non venisse rieletto che cosa succede va un altro presidente un'altra presidentessa così che magari dice la luna e chi se ne frega e allora cosa facciamo tutto quello che abbiamo in qualche modo progettato prendiamo lo buttiamo via e ricominciamo da capo è un po' quello il vero problema della politica spaziale ma secondo te possiamo dire che nel giro comunque una trentina d'anni qualcuno ci andrà su Marte sicuramente quindi noi possiamo anche dire che stasera concludiamo questo discorso dicendo che magari sulla luna si torna in 3 4 5 anni ma ci troviamo qui fra una trentina d'anni per parlare della missione dopo Marte dico bene sicuramente la missione noi ci saremo tutti quindi noi a questo punto cosa facciamo ringraziamo tutti quelli che sono venuti a parlare e tutti quelli che hanno ascoltato e ci vedremo qui fra una trentina d'anni per parlare tu Luisa se sei pronta noi prenotiamo con la dottoressa Manfron che ringraziamo fra l'altro l'aula la prossima volta lo faremo d'inverno quindi qui ci sarà un sacco di gente perché se uno può scaldare invece che stare fuori stavolta invece si suddava troppo e quindi ci vediamo qui nel futuro grazie a tutti buonasera guarda che devi firmare per no non credo neanch'io ciao ciao